ancora costatori certo si ricerivi qua si chiama cremo 10 sport comunque a parte questo di una grande partita degli avversari grande partita nostra potremmo fare un po di più siamo stati un po spregoni però loro era una squadra attrezzata si sapevamo che incontrava una grande squadra aveva molta assenza in quanto siamo abitati all'assenza e noi per ragazzi hanno giocato benissimo abbiamo fatto il massimo e quindi un punto per noi importante anche se io vincere la partita però davanti c'è una pisana che ha fatto anche in vantaggio quindi alla fine bicchiere mezzo pieno anche se ha fatto con pro coppio quindi il presidente mi si arrabbierà con me però io sono per la libertà dei giocatori grande pro coppio grande pisana e noi il grande cuore sono contro i ragazzi veramente veramente bravi e contro la roma non potremmo giocare con i giocatori perché abbiamo troppe assenze da floro flores e di compioni ma i ragazzi nostri ormai hanno fatto fino a fondo questo miracolo quindi giochino loro e andremo con la nostra spensieratezza ma abbiamo fatto già al massimo quindi a questo punto loro vinceranno sicuro che sono più bravi onestamente però noi cerchiamo di mettere in difficoltà giocheremo con spirito con atteggiamento con i ragazzi sono contento di tutto e quindi ci proviamo trattare non costa nulla il campionato poi il campionato coppa vedremo insomma Grazie. 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 Grazie.